Senta Calenda, si metta la mano sulla coscienza, sul cuore dove vuole, ma lei è sicura che non si vuole candidare a Roma? Perché io vedo che c'è tutto un macchinà, un meccanismo per far fare un passo indietro alla Raggi, si parlano, si ho capito bene, Zingaretti e Di Maio. Però un altro candidato forte, mica lo vedo comparire, non è che sarebbe un bel servizio al paese fare il sindaco di Roma, lo so che si è sempre detto di no. Però la faccio riflettere, proprio sull'idea che Roma la possiamo ogni volta far giocare all'otto? No, è una cosa molto importante fare il sindaco di Roma, figuriamoci, ne sarei anche onorato. Cioè il piccolo dettaglio, io sto facendo da un anno un lavoro politico e secondo me è altrettanto importante, cioè dare rappresentanza al pragmatismo, cioè a chi affronta i problemi e l'amministrazione dei problemi in modo segno. Quindi se glielo chiedono non accetta, ma lo conferma? Non ci sono fascisti e comunisti che fa ridere. Ma sì, certo, io lo confermo perché sto facendo un altro lavoro semplicemente, ma questo non vuol dire che noi, io ho parlato anche con Zingaretti due giorni fa, che non cercheremo di costruire una candidatura forte su cui trovare una convergenza. Ci lavoreremo su Roma, noi siamo molto forti, presenti in tutti i municipi a Roma, quindi ci lavoreremo assolutamente. Senta calenta.